Insieme a noi Bomber e Giovinco, un viareggio che ha sofferto tanto oggi, specialmente nel primo tempo, eravamo in difficoltà, non riuscivamo a costruire azioni pericolose, però poi nella ripresa avete tirato fuori quel cuore che abbiamo già visto tante volte. Bomber è una parola grossa. Sì, era fondamentale vincere perché ci dobbiamo togliere il più presto possibile da quella zona che non ci siamo mai stati quest'anno e quindi sarebbe una sconfitta se dovessimo arrivare ai play-out, perciò bella la vittoria, ce la godiamo particolarmente perché anche se non l'abbiamo giocato come sempre, però ha un sapore particolare. Un bel viareggio, specialmente nell'ultimo quarto d'ora, abbiamo trovato quel rigore grazie a te e poi siamo riusciti a chiuderla. Sì, ogni tanto un po' di fortuna anche a noi non guasta perché l'albitro sembrava che loro giocassero in casa e noi fuori casa, come spesso avviene qua in casa da noi e quindi c'era un presunto rigore il primo tempo che poteva darlo, un'azione da gol che a me mi ha fischiato fallo inesistente, quindi è andata bene, non ci tornerò più su. Si riparte, importante Pisa, importante oggi perché poi si va a giocare a Vellino e questo per il morale è davvero importante. Sì, da un segnale importante a quelle che stanno dietro di noi perché avendo giocato di sabato vedono che noi abbiamo vinto, quindi giocano con maggiore difficoltà e frenesia. Speriamo che porti bene. Grazie a tutti.